Quindi inizio subito col concetto di base, che spesso città in questo termine, che è fondamentale, per capire che cos'è l'idea della politica, o cos'era, o cosa poteva essere, l'idea di una politica in civiltà tradizionali. E poi il punto è questo, la nostra storiografia, nostra, eurocentrica, l'Europa colonialista dominatrice, che accentra tutto su se stesso, quindi come diceva Hegel, tutto ciò che non è europeo, è marginale, perché alla fine lo spirito è quello nostro, quindi la visione anche di una certa violenza, se vogliamo, come colonialismo stesso dimostrato di essere. Ecco, però quello che, e io, segnando nel liceo, questo lo vedo, ma questo problema non è solo liceare, investe proprio la cultura universitaria, questo eurocentrismo, questo colonialismo è una violenza che crea una menomazione anche a noi stessi, e questo è un problema molto serio, perché ci crea delle categorie metalliche, delle categorie ermeneuriche, se vogliamo, accecanti, cioè noi non riusciamo a vedere altro, cioè non riusciamo a vedere, anche se lo vediamo non lo riconosciamo, non possiamo nemmeno accettare l'idea di testi storici indiani, che esistono, chiamano Purana, per esempio, Purana, vi invito, e visto che questi testi sono tradotti, anche se in parte in italiano, in inglese c'è tutto, perché gli inglesi, i comunizzatori, e poi gli anni, riusciranno a cacciare, diciamo, dall'India, usando proprio la grande tradizione politica di cui parleremo oggi, in particolare del testo che ho scelto, e gli inglesi quando arrivarono in India e trovarono questa straordinaria eredità, questa lingua, il Sanskrit, che ovviamente non è una lingua parlata dall'India moderna, nemmeno dall'India medievale ottocentesca, però, come da noi latino e greco, la radice originale era Sanskrit, una lingua che gli inglesi, in particolare William Jones, che è stato uno dei primi traduttori tra 7 e 800, aspettare di tradurre questi testi dal Sanskrit all'inglese, sconvolse gli inglesi. William Jones disse in una lettera, in confronto il greco e il latino, sono ombre rispetto al Sanskrit, questo detto dopo inglese, quindi non era uno che doveva difendere il patrimonio indiano. Però, nonostante ciò, anzi, proprio per questo, riconoscendo questa straordinaria valenza culturale di questa realtà così lontana dall'Europa, gli inglesi cercarono di svalidizzarla subito. Jones disse, dobbiamo stare molto attenti perché qui abbiamo una civiltà molto più evoluta della nostra. Cioè, questi insegnano qualcosa a noi, e non il contrario. Però, siccome noi siamo gli invasori, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che gli hindu stessi svalorizzino la loro storia, e hanno fatto questo in inglese, hanno fatto una violenza non solo fisica, ma anche psicologica, e Gandhi con questo punto fa i conti, cioè far svalorizzare, far deprezzare questi testi. Il Mahabharata, il Ramayana, tutti i grandi poemi, che poi oggi sono rivalutati anche in senso storico. Non sono solo delle favolette o delle storie di fantasia, ma, oltre a delle presenze comunque allegoriche, in quei poemi, ci sono anche riferimenti a dinastie veramente esistite. Per esempio, la città di Dvaraka, che era considerata mitologia, bene, un archeologo è riuscito a scoprirla esattamente nei fondali oceanici, dove il poema indicava questa città, che secondo il poema è sprofondata. L'archeologo che ha fatto questa scoperta si chiama Rao, potete fare una ricerca, archeologo Rao, negli anni 60, lui mandò dei sottrazzatori, proprio basandosi su quello che i poemi indiani dicevano, e trovando proprio la città di Dvaraka. Quindi Dvaraka non è più una città, non possiamo più considerata mitologica, ma storica, perché sono stati ritrovati questi... Ed è una scoperta straordinaria. Guarda caso, non si parla quasi mai di questa scoperta, perché c'è questo muro, diciamo, una sorta di pregiudizio dal punto di vista culturale, proprio perché riconoscere queste tradizioni, questi testi, altri, significa che cosa? Non solo sminuire, tra virgolette, un eurocentrismo, ma anche riconoscere una storia diversa, un modo diverso di vedere la storia, un modo diverso di vedere la politica, un modo diverso di vedere la realtà. Nei Purana voi potete trovare, sono testi enciclopedici, io li studio da diversi anni, li ho appena sfiorati, quel po' che ho visto, vi assicuro che è sconvolgente. Purana vuol dire antico, anche se non c'è una parola, in realtà che possa in italiano vedere il sanscrito, però ecco, la traduzione più corrente è antico. Di questi Purana ce ne sono tanti, sono testi enormi, ripeto, in inglese stavano tutto tradotti, in italiano c'è solo qualcosa, anche se c'è un Purana integralmente tradotto, lo Shima Bhagrata o Bhagavata Purana, se volete approfondire, vi posso dare delle indicazioni bibliografiche, vi invito a leggere questi Purana, perché trovate una conoscenza avanzatissima, io ho trovato in questi Purana, testi di millenni fa, millenni, molti, ma almeno 5.000 anni fa, ma in realtà si ipotizza che siano testi ancora più antichi, o comunque che rimandino a civiltà ancora più antiche, c'è una conoscenza matematica, avanzatissima, biologica, astronomica e anche politica. Faccio un esempio previsto come volevo arrivare al discorso politico, così capite anche il sabotaggio, l'autosabotaggio culturale che il colonialismo ci ha causato, i numeri per esempio, tutti voi sapete cosa sono le cifre, lo 0, 1, 2, 3. Faccio questa domanda, questi numeri da due vengono? Ecco, quello che dicono tutti i miei studenti, è vero ma non è vero, cioè gli arabi l'hanno portato dall'India, sono numeri arabi indiani, gli arabi che hanno colonizzato prima degli inglesi in India, gli arabi sono stati siete straordinari nel far viaggiare la cultura, noi dobbiamo anche loro, per esempio di Aristotele, cioè gli arabi hanno fatto cose straordinarie, e sono loro che hanno portato queste cifre, in particolare lo 0, perché alla fine noi eravamo i numeri romani, una stanghette, due stanghette, non c'era lo 0, lo 0 è un mistero, perché non è nulla, ma non è nemmeno una quantità, è il simbolo dell'infinito, secondo la filosofia medica, il Brahman, l'assoluto, oggi la fisica indicherebbe con lo 0 il vuoto, il V, delle civiltà orientali, ecco, queste cifre vengono dalla cultura medica, rientrano nel Sanskrit, se tu vuoi vedere l'alfabeto Sanskrit, ci sono queste cifre, che gli arabi hanno portato da noi, ma non hanno inventato un garbo. Questo, faccio questo esempio, ma potrei parlare per esempio di astronomi come Baskarciaria, Brahmapurta, astronomi che secoli prima di Newton e di Galileo avevano già calcolato la forza di gravità, il sistema che è biocentrico, calcolato in modo perfetto, per esempio con equazioni, di questo probabilmente non si parla nei libri, perché noi dobbiamo essere il numero uno, quindi Galileo, Newton, possiamo dire che degli astronomi indiani quando dà luce dal Medioevo e pensavano che la Terra fosse il centro avessero già calcolato di più. Vi invito ad aprire la mente perché scoprirete cose interessanti. Non voglio, vorrei che ognuno di voi fosse incuriosito e andasse a cercarsi questi Purana, perché ci sono in italiano, poi alcuni si possono anche leggere su internet, si possono anche scaricare gratuitamente. Veniamo al discorso della politica, della città tradizionale, della tradizione, in particolare della cultura dei Veda. Si chiama in città medica perché i testi diciamo più antichi si chiamano Veda, che vuol dire sapere. Veda in sanscrito vuol dire sapere, vuol dire conoscenza. Veda. Poi in realtà anche le nostre lingue sono tutte di derivazione, si chiamano lingue indoeuropee, ma la radice sanscrito, men, man, uomo, la radice sanscrito e man. Per esempio, ci sono un sacco di parole la cui derivazione appunto è lo stesso. Visione, no? Vela, visione. Qual è la fonte della conoscenza primaria? Quello che noi vediamo, quindi veda, il sapere. Benissimo. Questa cultura medica, che ha una storia straordinaria, anche sconvolgente sotto certi aspetti, ha prodotto delle civiltà e delle dinastie straordinarie, straordinarie. Un modo di concepire la politica che secondo me oggi potrebbe far riflettere e potrebbe dare degli spunti, non solo di riflessione, anche di vita pratica, infatti arriverò anche su questo punto. Quindi, il centro di tutto è la parola Dharma, quindi un altro termine che non si può ignorare, non si può ignorare, perché il concetto di Dharma, che spesso viene citato dai buddhisti, ma in realtà è precedente, sapete che era il Buddha, il Buddha era un principe indiano, quindi tutto ciò che è il buddismo in realtà non è nuovo, il buddismo non è nulla di nuovo. La novità è il modo in cui questo uomo, questo che poi l'ha chiamato Buddha, in realtà è un principe, Siddhartha Gautama, che poi l'ha chiamato Buddha, perché Buddha vuol dire un risvegliato, un determinato, colui che sia svegliato dall'illusione, da maio, se volete approfondire. Ma in realtà tutti i concetti del buddismo venivano la vita, quindi il concetto di reincarnazione, di karma, di dharma, sono tutti i concetti, parole di questa civiltà, di questo sanscrito. Tra parentesi, il sanscrito, che non dicono grandi studiosi, non certo io, è considerato una lingua perfetta. Cioè, non c'è nessun'altra lingua che possa essere paragonabile come struttura, come complessità, come densità, come organicità al sanscrito. Infatti chiamata la lingua degli dei, della Nagari. Infatti chi studia il sanscrito rimane veramente colpito da questo. Schopenhauer, grande filosofo, ma anche genio, diciamo, della cultura, quando iniziò a scoprire, è stato il primo filosofo che iniziò a prendere sul serio questa cultura, quando Hegel la derideva, e Schopenhauer disse noi siamo così, ci vantiamo dei nostri grandi filosofi, ma quello che c'è nel Leopanis, è il suo primo umano, questo diceva Schopenhauer, perché è un altro, eppure quando leggeva la Ghita, non so se avete mai sentito questo tema, perché questo testo, la Bhagavad Gita, altro testo che vi consiglio di leggere, è un testo che ha cambiato la vita a Gandhi, Gandhi diceva, io senza la Ghita non sarei diventato, non sarei esistito, addirittura chiamava la Ghita la mia seconda madre, c'era una prima madre che mi ha messo al mondo e poi c'era un Bhagavad Gita che è la mia seconda madre, anche questa cosa di vedere un testo come una madre, c'è qualcosa che per noi è sconvolgente, è tutta un'altra cultura. Bene, torniamo al termine Daru, ma cosa significa Daru? Anche qui non c'è una parola in italiano, io non posso fare più una parola che corrisponda, non c'è un equivalente, in realtà bisogna usare più parole per freddurre l'arma, quindi alcuni lo chiamano legge, ordine. Sono tutti, diciamo, concetti che si avvicinano, ma Daru è in realtà qualcosa che va ben oltre, già il suono stesso, Daru, cioè dar l'idea di una struttura, cioè di un ordinamento, quello che i greci chiamavano Cosmos, magari il termine greco che tu sei vicino a Daru o potrebbe essere Cosmo, Cosmo è un ordine, ma l'ordine è qualcosa di non casuale, è qualcosa che è stato progettato da un'intelligenza. Questo è molto interessante, perché tutte le civiltà tradizionali, e quando parlo di tradizionali, quindi non parlo dell'India, parlo di tutte le grandi civiltà che sono state devastate dai colonialisti europei, i maia, in Africa ci sono cose straordinarie, gli apologi e gli australiani, noi pensiamo, consideriamo dei selvaggi, poi vi leggerò un brano di un grande studioso, Servier, che era un antropologo, e che studiando, studiando anche le tribù africane, sapete cosa disse? disse che la struttura politica di questa tribù in Africa non ha nulla di meno delle grandi strutture politiche che noi trovavamo in Italia nel XVII secolo. Questo per dire come in realtà c'è un pregiudizio culturale, che se noi non ne eliminiamo, e non è facile, io parlo in prima persona, ancora ci casco, devo lavorare su me stesso per vincere questa cosa, e ci lavorano con i miei studenti, perché c'è un bel lavaggio del cervello, ma non fatto da persone che vogliono, è proprio automatico, poi è fatto un automatismo da secoli, perché si è innescato questo processo, quindi smontarlo non è facile, quindi vedere la realtà, come tutte le tradizioni dicevano, come un qualcosa di ordinato, un ordine perfetto, la modernità lo dice questo, la modernità ha creato il caos, poi dice che fra l'altro quest'ordine non nasce da un'intelligenza, poi su questo se volete possiamo fare un discorso anche scientifico, un professore accennato e mi occupo anche di filosofia della scienza, ho scritto dei saggi anche sul tema del darwinismo, del neonarwinismo, anche su questo ci sarebbe molto da discutere, perché le società tradizionali non parlano di un'evoluzione casuale, ma parlano proprio di una strutturazione di tutta la natura, di tutta la realtà, compresa la realtà sociale, la realtà sociale dei regni antichi non era a caso, e chi governava, non si basava sul caso, si basava sul dharma, non è come il politico moderno che dice adesso ci inventiamo una nuova politica, non facciamo una politica creativa, oggi si parla di economia creativa, questa dal punto di vista tradizionale è follia, cioè significa che sarei impazziti, perché c'è già un dharma perfetto, c'è un ordine nell'universo perfetto, secondo queste tradizioni, siamo noi che lo alteriamo, e quando tu lo alteri, dopo non dico che sia impossibile ripristinarlo, però quantomeno bisognerebbe un attimo fare dei passi indietro, o quantomeno fermarsi, cosa che invece non sta avvenendo, soprattutto i problemi che abbiamo a livello sociale, di criminalità, di malattie psicologiche, di caos economico, sociale e politico, tutto questo, secondo, non me, ma sono d'accordo con gli studiosi che l'hanno detto, come che no, non so se non si può dire che no, uno studioso che vi consiglio, ma non solo lui, altri grandi studiosi, lo stesso Servietti, cioè la modernità che sembra essere progresso, in realtà è un'alterazione della legge, un'alterazione del Dharma, cioè di quest'ordine cosmico che era perfetto e che è stato alterato, perché è stato alterato adesso ci arriveremo, però intanto capire in cosa consiste quest'ordine, perché quest'ordine ha una struttura, quali sono i pilastri di questa struttura, il buddismo ne parla, ma ripeto, tutte le civiltà tradizionali parlano di questi pilastri, i pilastri sono quattro, adesso ve li dico, forse alcuni li sapranno, però è bene prima di leggere il testo e di infrescare un po' la memoria. Ci sono quattro pilastri del Dharma, vengono paragonati, perché quattro, sono anche paragonati alle zampe di una mucca, la mucca sta su quattro zampe, se tu togli una zampa inizia a barcollare, invece con quattro zampe la mucca sta o un tavolo per esempio, però loro preferiscono ovviamente l'esempio più vitale della mucca che è un animale molto rispettato non solo in India ma in tutte le città. Poi faremo anche un discorso sul rapporto che queste società devono verso gli altri viventi, verso gli animali ma anche verso le piante e voi sapete bene invece la modernità come consiglia degli altri esseri. Poi dovreste dire che percezione avete di quello che questa società fa agli animali, alle piante, metà delle foreste spazzate via negli ultimi anni, metà delle foreste del pianeta sono state impattute negli ultimi 50-60 anni. Poi parliamo di quello che succede agli animali, diciamo, a questi altri diciamo concittadini di questo pianeta e vi leggerò i passi di questo straordinario re indiano.